Ammonta 2,6 miliardi di euro l'importo del riciclaggio internazionale attraverso l'utilizzo di criptovaluta prodotto da un'organizzazione criminale sgominata dalla Guardia di Finanza. Eseguiti 8 arresti e sequestrati complessivamente beni per 25 milioni di euro. Tra quelli sequestrati ci sono 15 immobili a Vilnius, di cui due appartamenti di lusso, nel centro storico, due alberghi, un bar, ristorante e quattro immobili a Riga, di cui due appartamenti di lusso. In Campania ha sequestrato una villa d'Ercolano con piscina e campo di calcio, un immobile a Portici, Lombardia, Sigilia, un immobile a Come, uno yacht. I clienti della banda che si sono serviti del sistema di ripulitura del denaro, secondo il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, sarebbero oltre 6 mila. Oggi è stato fatto un lavoro strepitoso da parte della Guardia di Finanza che ha dimostrato questa grandissima professionalità, ma soprattutto ha utilizzato degli specialisti che sono, diciamo, chiamiamoli per semplificare, hacker buoni. È stato necessario ovviamente l'utilizzo, l'applicazione di tecnologia sofisticatissima. siccome dovevamo coordinarci con la Lituania e con la Lettonia, è stato l'intervento di Eurojust, il coordinamento con la Procura di Lecce per un segmento di questa enorme, di questa grandissima indagine. Allora la tecnologia che è stata utilizzata è una tecnologia che solo alcuni servizi segreti hanno. Questa organizzazione era molto avanti, ha utilizzato tecnologia israeliana, tra la migliore che c'è sul mercato mondiale, è stato veramente quasi impossibile penetrare. E qui è la difficoltà, e qui è il quid in più che questa Procura e questa Guardia di Finanza è riuscita ad avere.